Ben trovati, oggi ci è chiesto se Gesù ha insegnato ai suoi discepoli a pregare, ebbene sì, Gesù si è fatto anche educatore in un certo modo, ha cercato di far capire come accrescere la nostra fede, ha fatto anche capire ai suoi discepoli come pregare, ed è stata proprio una domanda dei discepoli stessi, uno dei suoi discepoli gli disse nel capitolo 11 di Luca, Signore insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli, ed egli disse loro, quando pregate dite Padre sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Quando gli viene chiesto come dobbiamo pregare, Gesù insegna ai suoi discepoli questa preghiera che ormai tutti conosciamo, che è il Padre nostro. Perché? Perché prima di tutto per poter pregare mi devo sentire figlio. Ecco perché Gesù insegna il Padre nostro, perché inizia con quelle parole Padre nostro, che non è neanche Padre mio, ma Padre nostro, perché la preghiera la vivo, il mio cammino di fede lo vivo in una comunità. La comunità cristiana è importante, non ho una vita spirituale da solo, certamente c'è anche una parte personale, ma c'è soprattutto, ed è lì dove cresco, una parte comunitaria. Ecco perché non è allora Padre mio, ma Padre nostro. E quindi basterebbe, per aiutarci anche nella preghiera, a meditare ogni frase del Padre nostro e a cercare di metterlo in pratica. Vedrete che allora la vostra vita potrà anche cambiare. La cosa più difficile del Padre nostro, credo che sia le ultime frasi, quella del perdono, e lo viviamo ogni giorno questa difficoltà a perdonare chi ci ha offeso. Anche perché noi ricerchiamo spesso il perdono degli altri, noi siamo perdonati in continuazione dal Signore, ma facciamo fatica a perdonare gli altri. Allora vedete, nel Padre nostro ci rendiamo conto di due cose essenziali. La prima è il fatto che siamo figli di Dio e lo siamo all'interno di una grande famiglia che la comunità cristiana. La seconda è l'umiltà. Se io riesco a perdonare è perché ho l'umiltà di riconoscere che anche io spesso posso sbagliare e quindi do un'altra possibilità al mio fratello. Allora vedete, il Padre nostro non è solo un poema che io recito, ma è anche un itinerario per la mia vita, è anche un modo di educare meglio la mia vita, di camminare meglio su questa vita che non è sempre facile, non è facile per me, non è facile per gli altri, ma è un modo per vivere meglio e per legarsi sempre di più a questo Dio che è un Padre. Grazie a tutti.